Nel nostro emozionante video, vi sveleremo tutto ciò che accadrà, negli episodi di Terra Amara del 26 e 27 ottobre. Sarà un'esperienza intensa, e carica di emozioni. Scopriremo come Zuleya, si troverà in un vortice di sentimenti contrastanti, ingannata dalle complesse dinamiche amorose, che la circondano. Nel frattempo, assisteremo alla scoperta di Fikaret, che aveva segretamente complottato contro le proprietà di Demir. Ma non finisce qui, la rabbia di Fikaret si farà sentire in modo potente, svelando nuovi sviluppi che cambieranno il corso della storia. Non potete perdervi questo appassionante episodio di Terra Amara, carico di colpi di scena e tensione. Iscriviti al nostro canale, per rimanere aggiornati su tutte le ultime novità riguardanti la serie. Cucina, mentre Gulten, Chetine e Fadik stavano cenando, Rashid fece il suo ingresso e dichiarò di essere affamato e desideroso di mangiare. Fadik, ancora fu ribonda con lui, gli intimò di uscire. Tuttavia, Rashid iniziò a lamentarsi incessantemente, tanto che alla fine Fadik, pur controvoglia, gli preparò un panino e lo scacciò dalla cucina. Chetine, osservando la situazione, chiese a Gulten il motivo per cui Fadik trattasse così male Rashid. Gulten gli raccontò che Rashid l'aveva abbandonata proprio il giorno del loro matrimonio, e ora erano incerti sulla veridicità delle sue scuse. Chetine rimase perplesso, ma Gulten gli spiegò che c'era qualcosa di strano in Rashid, come se stesse nascondendo qualcosa di importante. Nel frattempo, al piano di sopra, la conversazione tra Umit e Zuleya era molto cordiale. Umit suggerì che potrebbero diventare amiche e le chiese di chiamarla per nome. Sevda, incuriosita, iniziò a fare a Umit alcune domande personali. Umit raccontò di aver perso sua madre molto tempo fa, notizia che colpì profondamente Sevda. Poi, Sevda notò che Demir e Umit si scambiavano sguardi furtivi e cominciò a osservarli attentamente. In seguito, notò i nuovi gioielli al polso di Demir e ne lodò la raffinatezza. Zuleya spiegò che erano un regalo da parte di un cliente di suo marito e che Demir li amava molto. Anche Umit commentò che era un bellissimo regalo. Nel cuore della notte, quando il silenzio avvolgeva tutto, Fikret esciì di casa dopo aver inventato una scusa a Fekli. Con passi furtivi, si infiltrò nella fabbrica di latticini di Demir. All'interno, Mano metteva silenziosamente gli enormi contenitori di latte, facendo fluire il loro prezioso contenuto sul pavimento. Quando finalmente si voltò per andarsene, il suo sguardo incrociò quello di Fekli, che lo stava osservando attentamente. La tensione nell'aria era palpabile, e il destino sembrava appeso a un filo sottile mentre i due uomini si trovavano faccia a faccia in quella situazione pericolosa. Nel frattempo, Zuleya invitò calorosamente Umit a unirsi alla sua associazione di beneficenza, sottolineando che sarebbe stato un onore per loro averla nel gruppo. Le disse anche che avrebbe avuto l'opportunità di conoscere nuove persone. Umit accettò con gioia l'invito e ringraziò Zuleya per l'ospitalità. Quando alla fine si congedò, Zuleya offrì a Demir di accompagnarla in macchina, ma Umit gentilmente declinò l'offerta, dicendo che era venuta con la sua auto. Nel frattempo, Sevda osservava la scena con sospetto, iniziando a nutrire delle dubbi su ciò che stava accadendo tra Demir e Umit. In quel momento, una telefonata improvvisa raggiunse Demir, avvertendolo dell'incidente provocato nella sua azienda casearia. Demir uscì di casa immediatamente, proprio mentre Umit stava facendo lo stesso. Più tardi, Sevda, dopo essersi assicurata che Zuleya e i bambini fossero addormentati, uscì di casa con l'auto e si diresse verso la residenza di Umit. Quando Umit le aprì la porta, Sevda chiese subito dove fosse Demir. Tuttavia, Umit, sorpresa dalla domanda, le chiese perché stesse cercando Demir da lei. Sevda, con un'espressione determinata, le rispose che sapeva della relazione tra Umit e Demir. Umit, incredula, la liquidò come se fosse impazzita. Ma Sevda, senza indugi, ribatté che aveva riconosciuto gli sguardi e le allusioni di due amanti e le ordinò di mettere fine a quella relazione, altrimenti sarebbe stato un disastro per tutti, soprattutto per Umit stessa. Fikret e Fekli si trovano faccia a faccia, e la tensione nell'aria è palpabile. Fekli, con un'aria preoccupata, chiede a Fikret quale sia il suo profondo risentimento nei confronti di Demiriaman, poiché sembra incapace di controllare le sue azioni. Inizialmente, Fikret esita a rispondere, ma Fekli insiste, sottolineando che nonostante Demir abbia causato dolore e sofferenza agli Ilmaz, quest'ultimo lo ha perdonato prima di morire e ha persino affidato a Demir la donna che amava il suo figlio. Fekli sottolinea che, nonostante l'odio iniziale tra loro a causa dell'uccisione del padre di Fikret, sono riusciti a superare il passato e andare avanti. Pertanto, Fikret deve spiegare il motivo del suo odio persistente. Fikret continua a esitare, ma la crescente frustrazione di Fekli lo spinge ad insistere affinché riveli il motivo del suo astio nei confronti di Demir e di Adnan Yaman, che è morto da molto tempo. Alla fine, Fikret, esausto e arrabbiato, urla a Fekli che Adnan Yaman era suo padre. Spiega che è tornato dalla Germania con l'intenzione di vendicarsi per essere stato dimenticato e per le sofferenze inflitte a sua madre. Fekli è sconvolto dalle parole di Fikret e gli chiede se comprende la gravità di ciò che ha appena rivelato e se possiede delle prove concrete. Fikret risponde che sua madre gli ha confessato questa verità sul suo letto di morte e che ha anche trovato una lettera di Adnan in cui l'uomo ordinava alla madre di non attribuirgli il figlio, poiché non sapeva con chi lei avesse concepito Fikret. In preda allo sconcerto, Fekli si chiede perché Dio gli abbia inflitto anche questo dolore. Demir, mentre si sta vestendo nella camera di Umit, sente lei dirgli di rimanere. Ma lui le risponde che a casa la loro assenza potrebbe sollevare preoccupazioni e le promette che la prossima volta rimarrà con lei per tutta la notte. C'è un'intesa tra loro che suggerisce un desiderio di passare più tempo insieme. Nel frattempo, Fikret, con gli occhi colmi di lacrime, confida a Fekli che suo padre, Musa, era un uomo dedito al gioco d'azzardo e spesso lasciava la loro casa, abbandonando sua madre senza mezzi di sussistenza. Racconta anche che, in quei momenti difficili, sua madre era costretta a lavorare nella casa di campagna di Adnan Yaman, la storia di Fikret è straziante, e Fekli è sempre più sconvolto dalle rivelazioni. Fekli, inorridito, commenta che sembra che suo fratello fosse una persona malvagia, consumata dal gioco d'azzardo e dall'alcol. Fikret risponde con amarezza, affermando che sapeva che suo padre viveva ad Ankara, stanco di affrontare debiti e litigi con i creditori. Fekli, profondamente scosso, gli chiede se Adnan ha fatto del male a sua madre, suggerendo la possibilità di una violenza. Fikret, tuttavia, risponde che, indipendentemente dal tipo di male inflitto, sia stato un abuso o un inganno, Adnan ha comunque rovinato irrimediabilmente la loro vita. Nel frattempo, Umit, rimasta sola e profondamente agitata per la sua relazione con Demir, prende la foto di lui insieme a Sevda. Mentre guarda la foto, i suoi occhi si posano su Sevda e si sente in colpa, accusandosi di essere diventata simile a lei. Con un gesto di rabbia, scaglia la foto a terra, simboleggiando la sua crescente turbolenza interiore. Sevda, nel frattempo, è tornata a casa e sta leggendo la lettera scritta da Fikret, che ha trovato nell'auto. La lettera inizia con parole forti, condannando Adnan come un uomo senza onore e crudele. Poi la lettera si rivolge a Demir, rivelando che Fikret sa che Demir ha letto la lettera precedentemente lasciata sulla sua scrivania. Fikret afferma di non volere un centesimo dell'eredità sporca di Adnan ma sottolinea che entrambi, lui e Demir, condividono lo stesso sangue contaminato dal passato oscuro di Adnan. Mentre Sevda legge la lettera, Demir rientra a casa e la trova visibilmente turbata. Le chiede cosa sia successo e, vedendo la lettera che tiene stretta tra le mani, gliela strappa via per leggerla a sua volta. Sevda è sconvolta e gli chiede se quanto scritto sia vero. Demir risponde con fermezza che è falso e che qualcuno sta cercando di calunniare suo padre. All'udire delle urla e delle discussioni, Zuleya viene richiamata e Sevda le spiega la situazione. Demir cerca di strappare la lettera, ma Zuleya glielo impedisce, sottolineando che, tenendo le prove in mano, è possibile presentare denunce legali. Demir è convinto che il presunto figlio di Adnan voglia solo soldi e promette di trovarlo. Tuttavia, Zuleya ribatte che l'obiettivo potrebbe essere diffamare Adnan. A questo punto, Sevda mente, dichiarando di aver trovato la lettera sotto la porta di casa. Demir è sconvolto dall'idea che qualcuno sia riuscito a entrare nel suo ufficio, nella fabbrica e ora, anche nella sua tenuta, senza essere scoperto. La tensione in casa aumenta con ogni rivelazione. Nel frattempo, Fikret confida a Fekli di ricordare come Adnan li abbia cacciati via dalla sua casa, lui e sua madre. Crescendo, ha cercato di dimenticare tutto quello che è successo, ma ora sente il bisogno di rivelare la verità. Dice a Fekli che sebbene tutti credano che Demir sia il figlio legittimo di Adnan, anche lui è suo figlio, anche se è stato fatto passare per un bastardo. Ora, è determinato a dire a tutti la verità. Fekli, sconcertato, gli fa notare che Adnan è morto da molto tempo e che calugnare Demir non porterà giustizia. Tuttavia, Fikret insiste che ritiene Demir responsabile per tutto ciò che è accaduto. Fekli, ancora più sorpreso, chiede a Fikret cosa centri Demir, che all'epoca era solo un bambino, con gli errori di Adnan. Fikret ribatte che ha sempre pagato solo lui per gli sbagli di Adnan e ora è il momento che Demir affronti la verità e ammetta che suo padre era un uomo senza scrupoli, prima di rinnegarlo. Fekli cerca di convincere Fikret che l'odio non porterà mai alla giustizia, ma Fikret è furioso e decide di andarsene senza ascoltare le suppliche di Fekli. Il giorno seguente, Fekli è con Mujgan e inventa una scusa per spiegare l'assenza di Fikret. Poi, abbracciando Kere Mali, le dice che il bambino è la loro unica speranza. La tensione e i segreti continuano a crescere, gettando un'ombra su tutte le relazioni coinvolte. Sevda fa una visita improvvisa in cucina da Sanie e Gaffur, e con tono serio informa loro che è necessario registrare Uzum come loro figlia e ottenere un documento di identità per lei al fine di evitare futuri problemi burocratici. Sanie si infuria con Gaffur per non aver ancora risolto la questione dello status di Uzum, esprimendo la sua preoccupazione per le conseguenze che questa negligenza potrebbe comportare. Nel frattempo, Demir è furioso mentre parla con Zuley a riguardo alla lettera che ha trovato. A un certo punto, irrompe Shermin, che ha sentito la discussione. Demir le racconta del ricatto e del contenuto della lettera. Shermin esprime dubbi sulla veridicità delle affermazioni, suggerendo che potrebbe essere un tentativo di estorcere soldi da Demir, considerando che suo zio era noto per essere un uomo onesto. Zuley si unisce al dibattito, sottolineando che non hanno alcuna prova concreta per dimostrare che l'uomo sia davvero il figlio di Adnan. Tuttavia, suggerisce che Demir dovrebbe semplicemente pagare per farlo tacere. Demir, con determinazione, afferma che non intende cedere ai ricattatori e chiede a Zuley di mantenere la situazione riservata, cercando di evitare che si diffonda in giro. La tensione cresce mentre cercano di affrontare questa nuova sfida. Demir, carico di preoccupazione, si reca a trovare Fekli e con aria ansiosa gli rivela di avere un grave problema. Con gesto deciso, porge a Fekli le lettere anonime che ha ricevuto, rivelando che l'autore di tali letteri è una persona molto vicina a loro. Questa persona ha non solo danneggiato la lapide di suo padre, ma ha anche versato tonnellate di latte, creando problemi economici. Demir sottolinea che ha bisogno del parere di Fekli, poiché quest'ultimo è stato sempre sincero con lui, anche quando erano nemici. Ha finalmente compreso perché sua madre amasse tanto Fekli. Fekli, con calma e saggezza, risponde a Demir, considerandolo come un figlio e gli consiglia di non lasciarsi travolgere dalla rabbia, ma di affrontare la situazione con chiarezza di mente. Poi Fekli rivela a Demir che Adnan era un uomo che amava divertirsi e che ha inflitto sofferenza a un car in passato. Demir, visibilmente turbato, sostiene che se la verità dovesse rivelare che suo padre è stato davvero come viene descritto nelle lettere anonime, lui lo rinnegherà. Mentre Demir si prepara ad andarsene, Fekret fa il suo ingresso. Fekli, visibilmente sorpreso, gli rivolge una domanda diretta, chiedendogli se sia stato lui a scrivere la lettera anonima. Fekret, invece di rispondere, gli chiede se sia stato Demir a cercare il suo aiuto. Fekli, agitato, gli chiede perché non abbia condiviso tutto con Demir, invece di introdursi furtivamente nella sua casa. Fekret, con determinazione, afferma che non sarà onesto come lo è stato Adnan e che continuerà a cercare di rovinare la vita di Demir. Gli annuncia anche la sua decisione di separarsi da lui, sottolineando che non è suo nipote. Fekli, invece, ribadisce che l'amore non è limitato dai legami di sangue e chiama Fekret figlio. Gli chiede di rinunciare alla vendetta, ma Fekret risponde con fermezza che non lo farà, intimandogli di non ostacolarlo. Fekli, con crescente frustrazione, gli avverte che sarà sempre sulla sua strada, indipendentemente dalle loro divergenze. Demir, giunto nel suo ufficio, compone una lettera che sembra essere collegata alle misteriose lettere anonime. La scrive in due copie e poi incarica la sua segretaria di farla recapitare. Mentre la lettera parte per la sua destinazione, Demir rimane profondamente concentrato sul mistero che lo circonda. Nel frattempo, a Villa Yaman, Saniye, Gulten e gli altri abitanti della casa architettano un piano per far riappacificare Fadik e Rashid. Saniye assicura a Fadik che hanno condotto delle ricerche e che Rashid non risulta essere sposato. Questa notizia riappacifica Fadik e Rashid, e il rito dello scambio degli anelli viene celebrato immediatamente. La casa si riempie di gioia e festeggiamenti. Nel frattempo, in ospedale, Umit si avvicina a Mujgan per porgere le sue condoglianze e lode per il lavoro che ha svolto quando era primario. Durante la loro conversazione, Umit confida a Mujgan di non avere mai conosciuto sua madre e di aver perso suo padre a causa dei suoi numerosi matrimoni e divorzi. Mujgan condivide che anche i suoi genitori sono divorziati, e suo padre è deceduto mentre sua madre vive negli Stati Uniti. Le due donne riflettono sulla mancanza dell'amore materno nelle loro vite, e questa conversazione segna l'inizio di una nuova amicizia tra Umit e Mujgan. Condividono le loro esperienze simili, inclusi i dolori causati dall'assenza dei genitori, e questa serata segna l'inizio di un legame profondo tra loro. Se il video ti è piaciuto, lascia un like e iscriviti al canale. Grazie. Grazie.